Scuola diocesana di formazione teologica di Lecce Il pensare cristiano e il sapere teologico per essere testimoni e collaboratori delle azioni pastorali Una scuola aperta a noi laici, ai religiosi, a tutti coloro in cammino di discernimento nelle comunità parrocchiali La scuola si struttura in un percorso di tre anni, adotta metodologie didattiche innovative, laboratori di approfondimento e utilizzo di contributi multimediali Cerchiamo credenti credibili che osano sognare Scuola diocesana di formazione teologica di Lecce Formiamo laici in uscita per una chiesa in uscita Grazie